Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro trading club, l'unica esperienza in Italia in ambito educativo che vi permetterà di eliminare le cosiddette sanguisughe del mercato, quindi quei personaggi istituti bancari che gestiscono in malo modo i nostri risparmi e fanno erodere il nostro capitale con alte commissioni oppure un'infinità di costi nascosti. Per partire quest'oggi vi lasciamo con una bella citazione, ovvero il destino non è questione di fortuna ma è questione di scelte. La vostra prima scelta per essere operative e indipendenti dal punto di vista finanziario e quindi eliminare questi personaggi dalla gestione dei nostri risparmi è proprio quello di scegliere il trading club per continuare ad imparare con noi la pratica per osmosi. A proposito di trading club veniamo al palinsesto di questa sera, ripartiamo come di consueto con una panoramica dei mercati, parleremo poi di intraday dedicato un po' alla parte europea quindi con il DAX e un focus sull'analisi tecnica, lo faremo con il nostro Marco Pagani e infine educazione fiscale, dei consigli per essere in regola con il fisco. Ma ora la sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Come sempre vi ricordiamo che avete l'opportunità di rivedere tutti gli episodi del nostro trading club, più ulteriori corsi iniziali per le varie operatività che potete trovare poi tutte le serie commentate da noi, della nostra realtà. Per fare questo avete l'opportunità di utilizzare la nostra playlist, trovate le indicazioni qua sotto nel video. Poi vi ricordiamo anche che se ci sono dei dubbi, delle domande che ci volete sottoporre, avete l'opportunità di farlo. Andremo a rispondere anche ai vostri dubbi nella serata del venerdì, quindi ogni venerdì, ore 20.45, mandateci una mail a traderschiocciola alfa4all.com. Non è finita qua perché a brevissimo, ore 21.15, ci sarà in diretta il laboratorio operativo dedicato all'azionario in beta trading. Parleremo ovviamente un po' delle posizioni che abbiamo in essere, quindi faremo una gestione attiva degli spread, dei trade che abbiamo a mercato. Poi cercheremo di capire quale spread, tra quelli visti anche nei giorni precedenti, andiamo a selezionare per il settore household goods, quindi prodotti per la casa. Infine andiamo a sbirciare per farci ispirare dal portafoglio di Bill Gates. Ora non mi dilungo oltre, lascio la parola ad Andrea e Matteo che ci faranno una panoramica dei mercati finanziari. Grazie, grazie Paolo. Buonasera a tutti quanti. Dunque, questa sera in realtà ci concentriamo un poco di più sulle materie prime, ma andremo su due materie prime specifiche. In realtà vediamo prima qui il profitto sulla farina di soia. Abbiamo già fatto vedere due contratti chiusi nella giornata di ieri, ne avevamo quattro in totale, due li abbiamo chiusi ieri, due li abbiamo chiusi oggi, sono altri 182,44 centesimi di guadagno che alla fine in un'operazione che ci stava un po' voltando contro, poteva sembrare un po' la prima stop dell'anno, in realtà abbiamo portato a casa in totale un 509 dollari, ma bisogna sempre un po' capire come sono stati ottenuti perché la marginazione, quindi il capitale per fare questa operazione è davvero molto basso, considerate all'incirca 1-300 dollari a contratto, quindi abbiamo usato un capitale piuttosto limitato, ma soprattutto anche in questo caso abbiamo sofferto molto poco l'operazione, l'abbiamo tenuta per qualche settimana, quindi è stata una cosa anche abbastanza tranquilla, la chiusura è dovuta anche alla scadenza perché domani non sarà più possibile detenere un po' questi contratti sulla farina di soia e su altre granaglie, appunto perché c'è la scadenza per la consegna fisica, quindi questo è un piccolo aggiornamento soprattutto per chi segue i laboratori operativi sul commodity spread, così abbiamo chiuso un'altra bella operazione in profitto e come vi dicevo siamo ormai quasi a 27 mila dollari su un conto da 50 mila dall'inizio dell'anno, ma per questi dettagli approfondiamo tutta la prossima settimana, ne approfitto anche per ricordarvi che ci attende una settimana speciale, infatti la prossima settimana non vedrete solo alle 20.45 questa sessione un po' di overview, di portafoglio a 360 gradi, ma vi daremo la possibilità di vedere anche tutti i laboratori operativi, che sono sessioni di solito ad abbonamento, private, così potrete conoscere meglio un po' le nostre tecniche, sempre più da vicino, un po' su tutti gli ambiti, intraday, opzioni il martedì, il mercoledì ci sarò io appunto con il commodity spread e chiuderà come di consueto la settimana Paolo con il suo spread, le sue azioni in beta, quindi uno spread sull'azionario, quindi registratevi perché i posti saranno limitati, eventualmente ci sarà sempre la registrazione, ma sarà un piacere avervi in diretta insieme a noi. Finite un po' queste informazioni di servizio, ci dedichiamo un attimo al natural gas, infatti andiamo a vedere un attimo il grafico, eccolo qua, diciamo che l'operazione che vedete fa parte di un'operazione spread, quindi non è un'operazione rialzista su questa commodities, ma vediamo che oggi il prezzo è sceso, è sceso di molto, ha preso un'altra botta ribassista dopo un trend già abbastanza netto, soprattutto che viene dai mesi precedenti. Diciamo che l'ulteriore un po' goccia che ha fatto traboccare il vaso, se così si può dire, per il natural gas quest'oggi, è la news un po' sullo stoccaggio presente, infatti tutti i giovedì c'è un aggiornamento di questo tipo. Possiamo vederlo con un'immagine dove vediamo come lo stoccaggio è positivo, quindi gli ultimi istogrammi ci segnalano uno stoccaggio sempre piuttosto elevato, quindi questo è un aumento dell'offerta che quindi causa una diminuzione del prezzo. Oltre a questo un po' tutta la tendenza ribassista che vediamo in questo momento sul gas è causata principalmente da due fattori, uno questo che abbiamo appena visto di un'offerta che non è elevata solo oggi, solo in questa settimana, ma ormai sono diversi mesi che lo stoccaggio di natural gas, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, rimane piuttosto elevato. Questa presenza di stoccaggio elevato è anche determinata da una minore domanda che non ha assorbito questa offerta piuttosto ampia. La minore domanda è dovuta anche un po' al Covid, infatti il natural gas negli Stati Uniti viene sì utilizzato per usi domestici, quindi riscaldamento prevalentemente d'inverno, ma viene usato anche per il raffrescamento, se così si può dire, attraverso i condizionatori nel periodo estivo. Tra l'altro non c'è in questo momento neanche un clima così caldo e affoso che ha aumentato troppo la richiesta. Ma tornando un attimo al Covid, dovete sapere che l'utilizzo di natural gas è molto forte anche per l'uso commerciale e industriale. Essendosi un po' interrotte tante attività, è ovvio che anche quella domanda è scesa. Quindi da un lato abbiamo una domanda in contrazione e un'offerta in aumento, quindi un equilibrio che chiaramente sposta i prezzi al ribasso. Quindi è possibile che anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci possa essere anche un po' questa tendenza sempre un po' debole. Difficile però dire cosa può fare esattamente domani o tra una settimana. Ma l'analisi che vi vogliamo portare questa sera, tornando anche un po' sui grafici del natural gas, è che ci possa essere una ripresa dovuta via via ad una possibile contrazione dell'offerta. Perché i prezzi stanno diventando talmente bassi che per diversi operatori in questo campo si sta perdendo un po' la convenienza. Ripeto anche che quando si parla di natural gas parliamo sempre di Stati Uniti, quindi non ha nulla a che fare con l'utilizzo che facciamo noi e del gas che ci arriva dal Medio Oriente o dalla Russia, ma fa riferimento solo un po' alla produzione e al consumo americano. Certo loro lo esportano ai vicini messicani e canadesi e lo esportano in misura liquefatta alla Cina e comunque al sud-est asiatico, però ricordiamoci di osservare quel tipo di continente. Detto questo, stanno diminuendo le trivelle in funzione e questa era una tendenza già in atto. Possiamo vedere il sito di Baker Hughes che ci va ad aggiornare appunto il conteggio delle trivelle e vediamo che c'è quel meno 700. Considerate che verso l'inizio dell'anno eravamo sul meno 200, meno 300, quindi ci segnala una continua diminuzione. In questo caso, attenzione che il conteggio unisce un po' anche le trivelle per quel che riguarda il petrolio, ma se ci spostiamo sull'altro grafico, lo vediamo proprio con una tendenza molto forte in diminuzione. La linea blu più marcata, quella bassa, rappresenta un po' la diminuzione in corso, ma se guardiamo invece le medie precedenti ci trovavamo su valori molto più alti. Quindi è proprio in atto questa situazione. Pertanto, per quanto le condizioni attuali non sono in effetti così positive per una ripresa dei prezzi, pensiamo che a lungo termine soprattutto ci possa essere una ripresa perché una trivella in meno, due in meno, tre in meno è ovvio che a un certo punto calerà per forza di cose l'offerta e di conseguenza i prezzi dovrebbero ripartire. A questo proposito, andando sul nostro Alfa 4 chart, ci sono due spread che possiamo dire che abbiamo nel mirino. Uno è questo, dove abbiamo fatto un intervento proprio in questa giornata poco fa, l'abbiamo già annunciato sull'Academy perché ci segue più da vicino così sa un po' come stiamo gestendo questa operazione. Ne parleremo sicuramente meglio nella sessione di domani, ma lo riprenderemo di sicuro anche la settimana prossima dove anche voi che magari non ci seguite più da vicino ci potete buttare un occhio. Passando sull'altro, novembre contro dicembre può darci ancora di più un'aspettativa positiva perché come vedete il prezzo attuale è esattamente molto lontano dalle medie storiche oltre a questo ci dà anche più tempo quindi anche quel discorso di medio-lungo termine fatto poco fa potrebbe venirci ancora più a favore. Ma sicuramente di questo e di tutte le altre situazioni non solo del natural gas lo approfondiremo domani e nella prossima settimana. Adesso rimaniamo però sempre nel campo delle materie prime e cedo un momento la parola ad Andrea che parla per noi dell'oro. Buonasera Matteo, ben ritrovati a tutti. Sì, volevo giusto portare una breve analisi, dati, molti articoli che stanno uscendo in questi giorni, in particolare uno fatto dagli analisti di Bank of America che fondamentalmente vede realmente l'oro nella possibilità di riprendere i massimi storici toccati come potete vedere intorno al 2011. Qui lo vediamo tramite l'ETF dell'oro, il GLD che in questo momento o in particolare proprio ieri e ieri l'altro è uscito a rialzo dal canale laterale che si era creato negli ultimi due mesi e quindi per questo motivo possiamo vedere come abbiamo ancora una buona percentuale di rialzi per arrivare ai massimi più o meno un 10% che per guardarlo in once, cioè in soldoni al momento siamo intorno ai 1770 dollari l'once e i massimi sono sui 1900 dollari l'once. La cosa più interessante però è che viene dato effettivamente anche un target possibile su nuovi massimi storici mai raggiunti cioè ci si attende entro l'ultimo trimestre dell'anno un arrivo ad almeno 2000 dollari l'once. Questo per dire che comunque la situazione è ancora abbastanza nervosa sui mercati azionari perché come sapete l'oro ha un po' questo ruolo da bene rifugio che permette di chiaramente proteggersi in caso di discesa dei mercati ma un'altra cosa molto interessante è anche paragonare l'andamento dell'euro-dollaro con l'oro cioè per capire anche qual è il reale valore dell'oro confrontato con le altre valute e non solo con il dollaro perché se vedete nel 2011 il dollaro era molto molto debole ce l'avevamo quasi a 1,50 nei confronti dell'euro e come potete vedere in questo momento rispetto a quei livelli siamo a quasi un 25% sotto cioè un dollaro molto molto più forte tra l'altro anche qui avevo preparato un grafico giusto per darvi un'idea cioè l'indice del dollaro, il dollar index questo è il grafico di sempre ci va a riprendere però se vedete nel 2011 ce l'avevamo intorno a 75-76 quindi su dei livelli praticamente di minimi cioè un dollaro molto molto debole adesso invece vedete siamo già su una mediana molto più alta che rasenta il valore di 100 per questo ci rendiamo anche conto di quanto valore abbia nei confronti dell'euro perché guardate un po' ora qui il grafico è piccolino però già vediamo se andiamo a prendere proprio a 10 anni il grafico dell'oro contro l'euro quindi al grammo siamo nuovamente sui massimi cioè a più di 50 euro al grammo e se vedete nel 2011 quei livelli si fermarono intorno ai 43-42-43 quindi siamo già oltre i massimi di quel periodo quindi questo ci fa sicuramente ben sperare per una prosecuzione dell'andamento del valore dell'oro anche nei confronti del dollaro questo quindi considerate che non è che fa dei movimenti tutti in una volta sicuramente ci saranno degli storni quindi per ritornare a quanto detto nell'arco dell'anno ogni storno è sicuramente un'occasione di ingresso per quanto riguarda il nostro oro detto questo visto che ci siamo prolungati abbastanza con il nostro overview tra natural gas e oro io vado a cedere la parola al nostro coach Marco Pagani che ci parlerà di analisi tecnica sul DAX si grazie regia buonasera a tutti sono Marco Pagani coach in commodity spread stasera vorrei riparlare di un altro articolo che ho scritto riguardo all'analisi grafica e alla figura che più a me piace che sarebbe la flag o bandiera spiego ovviamente le motivazioni iniziali del perché mi piace questa figura e il fatto è che ci troviamo sempre nel trend del mercato che abbiamo un rapporto rischio rendimento sempre superiore al doppio a due a tre e che praticamente raramente entriamo in sofferenze o ci avviciniamo al nostro stop e quindi queste sono le motivazioni comunque nell'articolo ovviamente ho spiegato come si costruisce una flag la parte psicologica quindi la parte in cui come si comportano le le parti importanti del mercato cioè gli istituzionali e infine ho spiegato come l'entrata nella posizione con lo stop loss e la parte importante ovviamente la parte volumetrica nel senso che nessuna figura grafica si può definire rotta con interesse se non c'è una parte volumetrica alle spalle cioè vale a dire con entrata di volume questo articolo è il primo poi ho scritto un secondo articolo che potete trovare sempre qui sotto nel link sotto il video dove invece analizzo varie situazioni grafici dove spiego come funziona la figura visto che quegli articoli già li avete pensavo quindi di portare alla luce un trade fatto recentemente sul DAX quindi vado subito a far vedere il grafico del DAX questo è il DAX con candele a un minuto qui possiamo notare come vediamo se lo trovo subito dopo aver segnato questo massimo abbiamo un minimo abbiamo un altro massimo però inferiore un minimo inferiore un nuovo massimo e un nuovo minimo quindi comunque per dire la figura è nettamente al ribasso però nell'apertura anzi nel pre-market scusate assistiamo a un nuovo massimo quindi rompendo il precedente come possibile inversione della figura quindi sulla possibile inversione della figura ho tirato delle linee per avere una e una per avere comunque un'idea che se fosse rialzista dove possa anche arrivare il mercato ora vado un pochino avanti più in fretta vi faccio vedere che fino alle 9.07 quindi i primi 7 minuti all'apertura del mercato era poi in discesa e poi finalmente ha rotto con un inizio di volumi interessante in questa zona cosa è successo? che è arrivato a toccare quello che era la prima resistenza ma nella discesa subito i volumi sono scesi diciamo che la figura è stata un po' veloce poche candele pochi minuti quindi la mia entrata anziché essere stata fatta più vicino alla media in realtà è stata fatta un pochino dopo cioè vale a dire quando ho rivisto partire questi volumi su questo quindi ho pensato che potesse essere la nostra flag vi faccio vedere questa parte era praticamente la nostra flag qua dentro eravamo nella zona della flag sono partiti i volumi quindi io sono entrato avevo uno stop poco sotto i minimi precedenti io sono entrato su questa praticamente chiusura con il mio obiettivo che era questo quindi possiamo dire che erano 40 punti 39 tic di perdita contro 107 un rapporto di 2,74 di tutto rispetto fortunatamente poi è arrivata in obiettivo ma sinceramente se ne è anche andato però questo è stato il mio trade io spero che l'argomento vi abbia interessato se volete chiedere anche coaching su analisi grafica e questi studi solo prezzo volume qui sono vi ricordo comunque che sono anche coach in commodity spread quindi per ogni ulteriore informazione o coaching potete cliccare qui sotto così come sulla trader wall station io vi ringrazio dell'attenzione spero vi sia piaciuto e ripasso la parola alla regia ciao a tutti e grazie ancora grazie mille Marco sempre un piacere averti qui con noi e per proseguire con la nostra sessione invece diamo parola a Serena che ci darà qualche consiglio per essere in regola con il fisco ciao a tutti e benvenuti io sono Serena e perché sono qui oggi? perché come abbiamo potuto capire non solo dalle alte temperature la stagione estiva è ufficialmente iniziata spesso però estate non fa solamente rima con sole e mare e per chi come me è chiaro di pelle quindi tante tante scottature ma fa rima anche con fisco e tasse e in questo appuntamento quindi ho deciso di darvi alcuni consigli per essere in anzi condividere con voi alcuni consigli che aveva scritto qualche tempo fa la dottorassa commercialista Ilenia Cerri sul trading journal blog proprio per essere in regola con il fisco dal punto di vista di chi fa trading prima però come sempre prima di svelarvi quali sono questi consigli vi ricordo di mettere un bel pollice in su al video se vi piace questa tipologia di video e volete continuare a vederla naturalmente oltre ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e in questo modo anche attivando le notifiche ogni volta in cui caricheremo un video riceverete la notifica detto questo io direi di vedere quali sono questi consigli consiglio numero uno dichiarare le minusvalenze infatti ricordati di dichiarare anche le minusvalenze se te ne dimentichi quindi se ti dimentichi di riportare le minusvalenze nel modello redditi non potrai più utilizzarle in riduzione di eventuali plusvalenze e continuiamo a parlare di minusvalenze e in particolare collegandoci al regime fiscale dichiarativo infatti utilizzando il regime fiscale dichiarativo potete quindi compensare le plusvalenze che avete generato in una parte dell'anno con le minusvalenze che avete generato nella seconda parte dell'anno passiamo poi a quando si parla di broker estero perché infatti chi fa trading con un broker estero è obbligato a compilare il quadro rp e a pagare l'ivafe e se volete saperne di più su che cos'è l'ivafe e avevamo creato qualche tempo fa una mini guida vi lascio il link qui sotto in descrizione perché era un altro articolo del trading journal blog ultimo consiglio partita iva sì o no infatti il trading online è un'attività che può essere esercitata senza bisogno di aprire la partita iva e senza una posizione inps io vi ho parlato di 4 consigli in realtà nell'articolo che vi ho citato ce ne sono 6 se volete andare a scoprire quali sono mi raccomando vi lascio il link qui sotto in descrizione e potete andare a leggerli in tranquillità naturalmente io vi ricordo sempre di andare a vedere il trading journal blog non solo da un punto di vista di trading ed investimenti ma anche per essere aggiornati in materia trading ed investimenti ma da un punto di vista fiscale quindi dalla parte di fisco e tasse e detto questo io vi ricordo anche di mettere un bel like a questa tipologia di video quindi a questi contenuti se volete continuare a vedermi anche in futuro e noi ci rivediamo sul trading journal blog ciao a tutti e buona continuazione grazie mille Serena tra l'altro colgo anche l'occasione per ricordarvi che c'è sempre la possibilità di dichiarare il vostro conto trading per quanto riguarda i broker esteri quindi in regime dichiarativo a partire da 39 euro come sempre trovate il link in descrizione quindi se avete dei conti all'estero conto trading se sono 100 200 10 120 mila euro vanno comunque dichiarati ho fatto una minusvalenza devo dichiararlo sì vanno sempre dichiarati soprattutto le minusvalenze anche se là per là può fare un poco male però vi dico le minusvalenze si recuperano gli anni dopo è un po' come quando ci danno la possibilità di recuperare i soldi diciamo da delle spese che abbiamo fatto per che so sistemare la nostra casa con l'ecobonus quindi vanno dichiarati proprio perché così poi con i profitti che si faranno l'anno prossimo perché nel frattempo sarete diventati degli ottimi trader anche grazie a noi allora a quel punto poi recupererete quei soldi quindi mi raccomando non fate sciocchezze per risparmiare poche decine di euro e venendo alla conclusione vi ricordiamo che domani c'è la sessione di domande e risposte insieme ai nostri esperti dove andremo a rispondere alle vostre domande relative alla trader world station di interatti broker quindi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi ricordo che la prossima settimana ci sono i laboratori operativi aperti a tutti come detto da Matteo in apertura quindi mi raccomando iscrivetevi venite a vedere i risultati che abbiamo fatto sulla nostra piattaforma reale e ovviamente qualche idea su come comportarsi nel periodo estivo grazie ancora e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti